Mister Pasquale Catalano, con il Venezia è stata vittoria dopo un pareggio, una sconfitta in campionato. Una grande soddisfazione tra la tua squadra. Dopo aver pareggiato la prima in campionato, 15 giorni fa avevamo perso in maniera immeritata. Oggi abbiamo fatto una buona partita, però incontravamo una squadra forte, lo sapevamo, e il risultato ci ha premiato. Infatti, nonostante la superiorità numerica, nel secondo tempo c'è stato da faticare prima di riuscire ad avere ragione dell'avversario. Sì, chiaramente dopo l'espulsione la partita è una partita diversa, dove loro ripartivano soltanto e bisogna avere pazienza e far girare la palla. Abbiamo avuto qualche difficoltà, però queste sono partite da dentro fuori, quindi l'attenzione nell'essere lucidi ci può stare. Abbiamo fatto un'altra vittoria, dopo fare di lunedì, siamo contenti di venerdì ce n'è un'altra, da preparare nel migliore dei modi. Un partita differente rispetto a quella dell'altra sera, cioè più vicina al tuo tipo di calcio, nonostante il fatto appunto che con il risultato, il dentro e fuori, chiaramente, un po' condiziona. Ma le prestazioni possono essere di tanti aspetti. L'altro giorno era una partita dove non si poteva giocare, i giocatori sono stati bravi ad adattarsi alle condizioni, a contestualizzare il terreno, l'illuminazione, c'era un po' di tutto l'altro giorno. Oggi abbiamo giocato su una bella struttura, abbiamo incontrato, ripeto, una squadra forte, abbiamo avuto le nostre occasioni, loro hanno avuto qualche occasione sul calcio piazzato e andiamo avanti. Ci candidiamo a essere la prima del giorno, arrivati a questo punto? Non lo so, dobbiamo giocare venerdì, dobbiamo preparare un'altra partita, come abbiamo fatto questi due, poi non so, vediamo. L'obiettivo è chiaramente fare il meglio possibile e oggi è stato chiaramente un passo in avanti. Grazie a tutti.